Record di passeggeri nel 2022 all'aeroporto d'Abruzzo, nonostante la pandemia. 715.693 passeggeri rispetto ai 703.386 del 2019, con un incremento dell'1,7%. A trainare i numeri verso l'alto è stata la stagione estiva che, con 19 destinazioni, ha portato allo scalo aeroportuale abruzzese complessivamente 543.131 passeggeri. Il mese boom è stato agosto con un incremento del 21,87%. Il mese nero, gennaio, che ha registrato appena 19.878 passeggeri. E si apre la stagione dei cantieri, nell'aeroporto che vedete alle mie spalle con le immagini di Diego Martelli. Ci saranno 5 cantieri finanziati con oltre 10 milioni di euro. Per superare le criticità come quella dei voli cancellati a causa della nebbia, con l'obiettivo ambizioso di superare il milione di passeggeri entro il 2024. Hanno detto, incontrando la stampa questa mattina, il presidente della regione Marco Marsiglio e il presidente della saga Vittorio Catone. Presidente Marsiglio, record di passeggeri ad Abruzzo Airport nel 2022, nonostante la pandemia. Ora ci si proietta verso il milione di passeggeri. Come? Continuando su questa strada, noi abbiamo festeggiato, stiamo festeggiando con molta soddisfazione questo record, perché è onesto dire che non ce lo aspettavamo. Le previsioni, avendo avuto durante il 2022 almeno tre mesi sostanzialmente fermi, comunque con ancora la goda delle restrizioni in gran parte del volo aereo in tutta Europa e in tutto il mondo, tutto potevamo attenderci, tranne che appunto puntare a battere il record storico delle 19, dove superammo di poco le 700 mila unità, ora sono 715 mila. Avere 12 mesi a disposizione con questo ritmo e anche con voli che incrementeremo, perché i fondi che abbiamo a disposizione e che abbiamo messo in bilancio, oltre che per le politiche di sviluppo del turismo che abbiamo messo in campo, fanno pronosticare un superamento abbondante di questa cifra e continuando su questa strada non è più un sogno poter dire che magari entro il 2024 arriveremo a superare quel milione di passeggeri che oltre ad essere un obiettivo simbolico è anche un obiettivo economico, perché rappresenterebbe un punto di pareggio tra le entrate e l'uscita dal punto di vista finanziario dell'aeroporto, cosa che renderebbe il nostro aeroporto molto più robusto, molto più capace quindi di attrarre voli, di offrire servizi di qualità e quindi di continuare a crescere. 19 destinazioni, avete in programma di incrementarne il numero? Sì, questa è una fase cruciale per la negoziazione con i vettori che transitano a Abruzzo Airport, con Ryanair vi è un dialogo costante e quotidiano, con Volotea purtroppo in questo momento abbiamo ricevuto una chiusura perché hanno deciso di ridurre drasticamente le operazioni di volo in Italia, la doppia frequenza da e per l'inate con ITA viene garantita e potenzialmente effettuata per tutto il 2023, nella summer 2023 abbiamo intenzione di aumentare il numero delle operazioni sicuramente.